Ciao a tutti, continuano i lavori, stiamo lavorando molto per ultimare l'opera per il primo corso il primo febbraio vi aspettiamo tutti e a questo punto manca di assemblare questo rogo dove sono presenti tutte delle figure che rappresentano la cultura e dobbiamo ancora finire di assemblare i dottori della peste e poi colorarli ancora un po' di lavoro ma ci siamo, ci vediamo il primo febbraio